Come selezionare il livello in Wonder Boy per Sega Master System In questa schermata bisogna premere due volte il tasto 1, poi due volte il tasto 2, poi tenerli premuti entrambi e mentre si tengono premuti, se si preme in alto o in basso sul tastierino direzionale si cambia area, mentre a destra o a sinistra si cambia round, in questo modo si può scegliere in quale livello giocare, è chiaro che con questo trucco non si possono prendere tutte le bambole e quindi non si può accedere ai livelli segreti, per poter trovare tutte le bambole io nel mio long play vi ho messo in descrizione tutti i link per visualizzare il video nel momento esatto in cui recupero una bambola, e vi ho anche realizzato un video nella playlist trucchi e segreti che tratta proprio delle bambole, grazie per la visione, vi do appuntamento al prossimo trucco, un like in iscrizione al mio canale saranno graditissimi